Ray-Ban, laggiù! È lo studio del maritore! Ci siamo! It's time! It's time! Laggiù! Trago! E guarda! E cosa ti ha mento! Buonave! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ora si fa evidente la totale mancanza di organizzazione di Google Si può dire che Ryman li lavora ai fianchi È un vero rullo compressore Ecco un gioco di gambe molto efficace Oh gli Udlum non hanno più di niente da spendere Oh, accipicchia! Ryman è fuori combattimento Eccoci, partiti a cento all'ora Gli attacchi del Udlum sono disordinati Non c'è complicazione, manca un vero capitano che orchestri la manovra Ha, 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 sii! Straordinario ragazzi! Asicco! 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 Asicco!